A questa attività aveva dedicato tutta la sua vita, una vita intensa, fatta di lavoro, relazioni, sport e solidarietà. Ma quando ha visto la furia violenta delle fiamme, che in poche ore si sono portate via tutto, non ha retto e ha deciso di farla finita. Bruno Di Lenardo, titolare dell'omonima ditta di import-export di ortofrutta, andata a fuoco a Padova sabato sera a causa di un corto circuito delle celle frigorifere, si è ucciso. Nessun biglietto, solo una grande disperazione che lo ha portato a tornare all'indomani del rogo all'interno del cappannone. Qui si è tagliato i polsi, si è messo un sacchetto in testa, fissandolo con la prima cosa che ha trovato, un foulard, e ha aspettato la morte. Una tragedia scoperta solo dopo qualche ora da un impiegato di una ditta vicina, allertato dai familiari di Di Lenardo, preoccupati perché non rispondeva al telefonino. Una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti, la famiglia che aveva visto la prostrazione dopo l'incendio ma non immaginava che conducesse a un gesto così disperato, ma anche moltissimi amici. Di Lenardo era ben inserito nella comunità padovana, socio del centro grossisti, impegnato in mille attività sportive, come sponsor, socio nella canottieri. Ma quell'impresa era tutto per lui e, in più, c'era il rimorso per il fatto che il rogo aveva intaccato anche un'azienda vicina, la chef Bertolini. Danni ingenti e un futuro incerto per i dipendenti delle due aziende. Le polemiche per la preoccupazione che l'incendio avesse potuto provocare danni ambientali, per ora esclusi. Forse troppo per un uomo che stava già combattendo la sua battaglia in una crisi, che assomiglia sempre più a una guerra in cui cresce ogni giorno il numero delle vittime. Grazie.